Grazie a Massimo di Gregorio, adesso facciamo entrare Gigi Gumina, che appunto prima Massimo ricordava uno di quei membri della colonia ragusana che Peppe Foti importò da Cireale, ma lui lì ha messo radici ed è rimasto così vicino a Peppe per tantissimi anni, tanto che sei il secondo miglior marcatore e il secondo giocano più presenze della maglia della vaschetta Cireale dietro quella Rupi, quindi grandissimo affetto penso fra di voi e anche grande collaborazione, no? Sì Roberto, intanto un saluto a tutti, rispetto agli altri diciamo che i miei ricordi più belli di Peppe ormai risalgono quasi 30 anni fa, quando come ha detto Massimo di Gregorio Pippo Borzicci consigliò di venire da Cireale a giocare, io, lui e Eugenio Chipinti, che già conoscevamo Peppe, l'abbiamo avuto due anni come giocatore e quattro come allenatore in serie C, C1, C1, la C nazionale che c'era allora. Che dire, quello che ho scritto nel post una settimana fa, le urla di Peppe Foti, col mio nome Luigi, significava che appena io provavo a fare qualcosa che era al di fuori del suo intendere la partita o fuori dallo schema che poteva recare danno in quel momento, partiva il suo urlo. A volte gli strozzavo l'urlo in gola, a volte no, però... Perché segnavi, no? In quel caso segnavi. Un poco, ma segnavo. Esatto. Niente, una cosa che devo confermare, che ha detto Vazzana, è la puntualità. Non so se è un aneddoto, è quello che ha caratterizzato, cioè che ho preso, ho fatto mio da Peppe. Noi da giovani universitari, perché eravamo poco più che ventenni, il venerdì tornavamo a casa dopo l'allenamento a Ragusa, quindi arrivavamo comunque tardi, l'allenamento alle nove di sera. E in quegli anni noi giocavamo alle undici di mattina la domenica, allo scientifico. Quindi partivamo alle otto del mattino per essere alle dieci in palestra. Nonostante Di Gregorio andasse in discoteca, ma questo per te non lo diciamo. E tornavamo, non lo diciamo. Ah, non ci stai sentendo nessuno. E capitava che a volte arrivavamo in ritardo, dieci e quarto, piuttosto, non so, più tardi che potevamo fare, potevano essere dieci e mezza. All'ennesimo ritardo Peppe sbotta col suo vocione, cazzo e la tona di quelli pazzeschi, e noi, mi ricordo che ho ginocchi pinti che guidava la macchina, disse, ma Peppe c'è stato un incidente. Ed era assolutamente vero. Non ha importanza, la prossima volta partite prima. E io questa cosa la faccio mia ora, tuttora, quando vado a giocare, do appuntamento ai ragazzi per andare in trasferta. E li do apportamento molto, molto, molto prima. Per cui i ragazzi, ma perché? Non c'è motivo, i genitori, ma ci arriviamo in tempo. Questa cosa Peppe l'ha sempre fatta, anche quando andavamo a fare le trasferte, che andavamo a giocare a Marsala, piuttosto che ad Alcmo, a Paceco. Noi partivamo ore e ore prima, arrivovamo a volte anche prima ancora che il custode aprisse il palazzetto. Una cosa che avete detto tutti quanti, e secondo me ci sta in questo contesto, secondo me, onestamente come l'ho visto io, come l'ho conosciuto io Peppe, è una persona che non si accontentava, che voleva sempre quel passo in più, e malgrado appunto fosse un incinuo, un incinuo quello che è, lui pretendeva tanto dalla sua squadra e dai suoi giocatori, proprio perché voleva che facesse quel passo in più, meno che puoi confermare questo. Sì, 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 assolutamente. Quello che abbiamo visto noi a vent'anni, lui l'ha fatto con tutti i ragazzi che gli sono passati sotto le mani. Tutti, fino all'ultimo di 99 che ha avuto ultimamente. E poi la disponibilità fuori dal campo è stata qualcosa di splendido. Cioè, capitava che le domeniche che c'era il Carnevale del Cireale, noi giocavamo in casa, c'era un file chilometri al casello o alla statale. Lui per evitare questo, che noi venivamo da Ragusa o da Catania, ci invitava a casa sua a mangiare, Patrizia cucinava. Sì, sì, era una persona splendida. Anche se il suo modo poteva sembrare burbero, ma era, come dici tu, la voglia di migliorare quello che lui già capiva che tu non sapevi fare. Quindi voleva di più quello. Esatto. Gigi, io ti ringrazio per la tua testimonianza. Davvero. Grazie a voi. Grazie davvero di essere con noi. Grazie.